un'altra parte il celsi abbate allarga il gioco per Saliai la furia cieca e lo fa e lo fa l'angelo biondo a pallonetto grandissimo il gol di Saliai prova il triangolo sbaglia ancora Pantarelli attenzione la conclusione c'è il gol di Pantarelli dell'1-1 del USM sarà il destro di Lorenzo Cognigni parte Cognigni il tiro il gol di Lorenzo Cognigni 2-1 per il celsi ancora Cognigni abbate contropiede per il celsi ancora abbate se ne va abbate 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 c'è il gol di abbate Francesco abbate c'è il